Come ogni inverno che si rispetti, l'8 dicembre in tutte le case è già arrivato in Natale. Tempo dunque di allestire l'albero e realizzare il presepe. E noi di Rete Veneta, che rispettiamo le tradizioni, proponiamo da oggi il nostro consueto spazio dedicato alle natività realizzate da voi nelle vostre case. Una rubrica, quella dei presepi, talmente apprezzata da essere stata copiata ormai da tutti. Nessuno però, come Rete Veneta, è pronto a portare le sue telecamere nelle vostre case per scoprire tutti i segreti di una tradizione che ha radici lontane, datate dagli storici in periodo palo-cristiano e che la leggenda invece vuole realizzato per la prima volta all'interno di un bosco da San Francesco d'Assisi. Nell'ora di presepi ne sono stati fatti e tanti negli anni scorsi sono diventati protagonisti dei nostri telegiornali. Accadrà anche quest'anno a partire dalla prossima settimana. Verremo nelle vostre case e renderemo i vostri presepi protagonisti dell'unica e inimitabile rubrica dedicata alle natività. Verremo nelle vostre case e renderemo i vostri presepi protagonisti dell'unica e revisione a cura di QTSS 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 di QTSS.